Ah, boh, come stai? Meh Dove vai? Sono un po' contento che è riuscito il sole Sai, tipo, andare al parco Si sta bene Sì, è un periodo un po' piatto Sembra che le persone non danno energia in questo periodo, non so come dittelo Come mai dici questo? Cosa è successo? Non lo so, le conversazioni sono spente Magari so io che voglio solamente seppellimme Ma infatti, bro, secondo me sei tu, bro Devo solo smettere di dare la colpa agli altri Sei tu il socchia, energia, il vampiro energetico che... Mi richiede troppa energia Eh, capito, bro Eh, magari hai ragione Vero, comunque ti rendi conto di quanto... Cioè, non è che sei depresso, ma tipo, semplicemente che non c'è il sole No Io credo di sta a sentire un disagio alla pelle Dovuto dalla mancanza di sole Tipo? Non lo so, bro, ce la faccia blu No, sei bianco come sempre, non sei blu, bro E invece mi vedo tipo blu sotto gli occhi Boh, è epico No, è epico Come si è epico? Vampiro brutto morte Bambino tossico swag No, bambino tossico swag non è swag È solo bambino tossico, merda Le occhiaie vanno di moda, di brutto Le occhiaie non vanno in moda, fratello Le occhiaie vanno in moda sui belli Le occhiaie sulla gente normale fanno cagare Bro, ma tu pensi di essere normale? Cioè tu ti guardi allo specchio Guarda che... Io sono una merda Sei un bel ragazzo Un uomo Tu sei un bel ragazzo Bro, smettila, sono straserio E sei la prima persona Che è pelata Ma non è una cosa negativa Cioè ti vedo e tipo ti sta bene, capito? È assurdo, bro Sei proprio... Si vede che hai perso i capelli da stragiovane Perché tipo hai imparato un botto a... Ho schillato la pelata Capito? Lo vedi quando uno è a disagio con l'essere pelato Cioè lo senti proprio? No, bro, sono una merda Sai che tipo in cinque anni Sono invecchiato di vent'anni Sono entrato in quella fase In cui tipo... Esco dal teenager Arrivo nei ventuno Venti due Dai ventitré, bro È tutto un... Una corsa verso i trenta Almeno per la mia vita Sì Le occhiaie Le rughe sulla fronte Non le ho mai avute, frate Io l'anno scorso non avevo le rughe È possibile che si formano in un anno? Eh sì, bro I problemi alla schiena È tipo tutto rallentato fino ai venticinque È tipo molto low Io prendevo in giro Tipo il compagno di mia madre Quando mi diceva Io cago la mattina All'orario preciso Il mio momento Ti dicevo Ma ti pare che la gente caga precisamente a quell'ora lì E invece è una bellissima cosa E invece io devo cagare a quell'ora lì Perché se no il mio corpo sta male nel resto della giornata La gente che ci guarda ancora non sa Non sa, non sa l'età cosa significa Però ci sta a dare una mano Sai, ogni tanto vedi E spesso sono i 35 anni arabi in realtà O quelli del sud 35 anni arabi è l'esempio che stai per fare? Sì Se vai in una pizzeria Che c'hanno pochissimi capelli Ma tipo pochi Che puoi contarli E comunque li pettinano dritti O alato O ancora peggio Li gellano e li mettono all'indietro Ma tu Cioè li puoi contare singolarmente Puoi contare i pixel Sicuramente tra quelli che ci stanno guardando Qualcuno che li sta perdendo E sta male Cioè cosa ti resta con la persona bro? Stai perdendo i capelli Hai due chance Rifatteli Non costa niente Vai in Turchia Te li fai 2-3k 2k Ti paghi tutto il viaggio E la 1800 euro Ti paghi viaggio, alloggio E trapianto Ne vale la pena Ne vale la pena Così male Nel caso in cui non puoi O comunque non ti va Rasati Cioè nel senso Non sarà la tua condanna Anzi Però Pro dell'essere pelati Non hai Da pensare a nessuna acconciatura Perché c'hai quella e basta Quindi non dici Sto bene, sto male No, sarai sempre uguale E come quando in passato Si stava bene Perché potevi fare solo il contadino E non avevi tutti Eh cosa faccio Voglio solo quello Sarai più riconoscibile dalle persone Quante persone Vedi 10 persone con i capelli E uno pelato Di chi ti ricorderai? Del pelato Chiaro Lavarti sarà più facile È tutta schiena E sembrerai sempre pulito Però adesso è contro Dipende tanto dalla forma della tua testa Madonna bro Ma se c'hai tutte le bozze Eh Io so che c'ho tutte le bozze Non posso diventare pelato Quella è difficile Tu sei blessato che sei Io sai che ho paura Ultimamente c'ho tipo Sta paura fottuta Che passo troppo tempo Con le cuffie E sai tipo che viene Il Il fiume Il sol Oppure bro Scusami Se sei buildato come l'azza Che c'hai tipo la testa Lampadina C'hai le tempi che rientrano E poi sopra Go È un tavolino Eh? Tipo il tavolino Perché si allarga E poi diventa piatto sopra No 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 Che c'hai tipo Qua stretto Capito? Tipo un alieno bro Ah ok È come se qualcuno Ti sta stringendo Bravo Ti sta stringendo dalle tempi È come i video Di quelli che mettono Un elastico Due elastici Tre elastici Sull'anguria E poi scoppia Stessa cosa bro Senza mai scoppiare Te lo porti sempre dietro Altra cosa negativa È che In foto Le prospettive Cambieranno di brutto La tua estetica Nel senso Se stai così Sei un pollice Se sei così Sei una sfera Di lato solo Starei bene In foto Brother E poi sì Ci sta quel fattore Che tipo Una roba pesante Dei pelati È che non puoi cambiare Il tuo aspetto Quando vuoi Cioè tipo Ti rompi il cazzo Del tuo look Te l'accolli Freda Che fai? Due strade Baffi o barba Baffi, barba Tatuaggi Quelli che io Vi devo Rollare da una vita Perché Il colore ai capelli Non posso farmelo Il taglio di capelli diversi Non posso farmelo Se dico Voglio cambiare un po' O tattoo O barba Ma infatti Quella è la cosa Che mi piacerebbe di più Perché io dico Voglio cambiare Faccio un taglio di capelli diverso E la mia vibe Cambia totalmente Se sei pelato Baffi Infatti è molto comune Vedere baffi E pelati Poi anche Cioè Altra cosa negativa I cappelli stanno male Ai pelati No Guarda Lorenzo Lorenzo C'era sempre Lì sta bene Chiaro che se avessi i capelli Che escono fuori Sarebbe un'altra cosa Hai ragione E se sei troppo secco e pelato Sei un tossico Un malato di cancro Se sei troppo grasso e pelato Sei Buddha Non puoi dire Ma se sei muscoloso Pelato e con la barba Sei il chad O pelato di bradzer L'unica cosa Vuoi diventare così Forte nella vita Che tutti ti usano Come reference Tipo Ah sei pelato Come Simone Così non sei tu Quello pelato Tu sei Simone Gli altri sono quelli pelati Ci sono dei layer Tipo Io Ho della gente Tipo Gli sconosciuti Che assomigliano Che sono pelati Con i baffi Ah e Panetti Io che sono Panetti Ah Jimmy Tights Jimmy Tights Che è Jimmy Tights Diranno Ah Jeff Bezos Che cazzo ne sono Chi è il primo Chi è Il centro della cipolla Il vero pelato Il pelato The one Voldemort Buddha forse Potrebbe essere Buddha Buddha era pelato Se tu ti tipo Guardi un pelato Dici Ma chi cazzo è questo Pelato di bradzer Vabbè sì Certo Certo Secondo me è pelato Di bradzer Se è penulti È poco È secondo Non è il primo Dio Se è dio pelato No è l'ultimo È dio Che è dio dei pelati C'è C'è sicuramente C'è E so che la risposta C'è Ma Lasciamoci pensare Lasciamo pensare i ragazzi Ci verrà in mente Ma Ma tipo Poi capiamo anche sta cosa che Ah ero con Simone Chi è? Quello pelato Ah ok Incubo bro No non è un incubo Tatuaggi in faccia Ah chi è? Quello con i tatuaggi in faccia Sì E invece l'incubo sai qual è? È che la gente pensa che scherzare Con i pelati Va bene Non ti conosco Scherzerò sul fatto che sei pelato Perché Qual è la battuta che Sparano più Easy L'altro giorno stavo in un bar Con Un mio amico E un amico del suo amico Che non conosceva me Mi ha detto Ah ma con tutti questi tatuaggi Te li poteri tatuare un po' dei capelli Il giallo nelle vene frate E tu cosa hai risposto? Non rivedrò mai più questa persona Segnato nella mia lista nera Che è lunghissima Eh Quelli sono Te lo tieni Assurdo che il suo cervello fa Diglielo Digli questa battuta E l'ha fatta Poi si è giustificato È stato anche bravo È detto io non ho freni Non ho Allora Io se vedo un altro marocchino in giro Un po' di Yo Sai già dove voglio andare a parlare no? Io se vedo un altro perato Dico yo Perato che baffi magari Che è un po' più No Tipo Dorian Un nostro amico C'è una pagina Perato che baffi E ogni volta che ne vede uno Gli chiede una foto e Bello No 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 Non c'è della Non sento Almeno io non sento questa Tipo i ginger ce l'hanno Secondo me Ma cazzo ce l'hanno i ginger I ginger guarda che fanno anche Gli incontri annuali a Milano I ginger non pensano I ginger hanno la memoria A cinque minuti Come i pesci rossi Ah dici? Sì Penso volessi dire Hanno una coscienza unica Con le Sono tipo Mente alveare Capito? Unità Unità Ma tu conosci un ginger? Sì Ginger originale Una ragazza ginger originale Sopracciglia? Tutto arancione Peli da figa Secondo me sì ma non li ho visti Secondo me sì Sì la conosco La conosco e Che cazzo c'è nel loro fottuto sangue Che cazzo fanno Quei capelli fosforescenti Porco Ma infatti è assurdo zio Ma se non mi sbaglio Si dice che sono senza anima E venivano usati tipo come Materiale per Sai tipo gli albini in Africa Che vengono uccisi Perché Usano il loro sangue Per i rituali Sì Eh c'era una situazione Figata secondo me Elabora sto pensiero Allora immagina di essere Un indigeno Che è incubo No E che c'è Ogni tanto nasce un bambino Diverso da te Stranissimo È completamente l'opposto Ovviamente gli associ qualcosa Dei fantasy addosso Certo Quindi banalmente Loro stanno a vivere un mezzo Signore degli anelli Ovvio Cioè parliamo di gente Che comunque si vede un drone Scappa perché pensa che sia il dio Del Eh del cielo Che ci sta Figata come mentalità Cioè loro non vivono tipo Tasse Bello Strutture Bello Bello Hai ragione Loro invece vivono tipo Se scuoto questo bastone Nel modo giusto Pioverà Porco Dio Però secondo me Quello È un vivere incredibile Però dovremmo troppo andare lì Vestiti con della tunica E tipo Quel culo finto in silicone O Non so Un controllo Ma proprio una roba a caso E dire Siamo le vostre nuove divinità Invece Beh là bro I fanfatti tutto Cioè Eh gli check Gli check Ah sì 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 certo Il sole va via Perché Dio Se lo riprende via E tu gli dici No In verità il sole va via Perché la terra Gira intorno al sole Emoji con gli occhiali In realtà Poi in realtà Vedi che sei così ignorante Che poi ti convincono E noi dopo due ore Ma sai che Forse la mano di Dio Che spinge il sole Sì questa pianta Mi cura Perché è stata Toccata dal sole Di Dio No questa pianta Mi cura perché Contiene questa Principia Certo E li distruggi Noi ti mangiano Invece Maggiano i loro problemi Bro Ma tu lo sai Che La cosa che mi fa ridere Più di tutti E che nei film Gli indigeni del cazzo Li Facevano come Tipo quelli che mettevano La gente legata Che girava Oppure nel pentolone Piero d'acqua e spezie Cioè è un assurdo Che cucinavano gli uomini Capito Quindi sti pentoloni enormi No Per niderissimo Chissà quanto è vero Beh tipo adesso Questo è da facceccare Totalmente Perché potrebbe essere Una cazzatura No questa è la verità Questa è la verità Scusate Credeteci In Haiti C'è una situazione assurda In questo momento E Sta guidando un colpo Allo stato Il capo di questa tribù Chiamato barbecue Indovina Indovina perché È chiamato barbecue Perché 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 lo chiameranno barbecue Perché qua c'è la gente Sulla griglia Bro mangia le persone Te lo giuro La gente è terrorizzata Da barbecue E potrebbe diventare Il prossimo Il signor BBQ E potrebbe diventare Il prossimo presidente Di Haiti E sta roba è assurda È proprio una Haiti Lori incredibile Fa morire sta roba Pensa per l'anno Mello Quello mangia le persone Pensa che stai tipo a casa E ti arriva un messaggio Whatsapp Con un gruppo Creato da BBQ Grigliata venerdì sera E tu dici Bro Sei stato infilato Nel gruppo Minca pensa che Quanto c'è del mood Che se è una festa In Haiti Un tuo amico fa Bro sta arrivando a barbecue Stasera E tutti me Ma è tipo Tutte le immagini Che gira sempre Con la salopetta Con gli attrezzi Da barbecue Del pancione Penso se barbecue Ti invita a cena Poi devo portare qualcosa Ma porta a te stesso Eh sì No assurdo Però è assurdo Che evidentemente Cioè comunque C'è ancora il cannibalismo E di per sé Non mi fa troppo strano Io sono scioccato Che senso è ok Io a un certo punto Nella mia vita Ho pensato Epico mangiare le persone Certo Poi quando tipo Inizio a giocare A The Forest Che quando mangi La carne umana Ti viene tipo Il problema all'intestino E per di vita O anche a DayZ Allora Sti giochi Mi hanno costretto A pensare Che la carne umana In realtà fa male Però è un cap Però è un cap È un cap Secondo me sa di maiale Ed è come mangiare Qualse altra Tipo Se tu Un malato di cancro Fa Io Voglio che il mio corpo Venga mangiato Che ti sei in cula E in un ristorante Sei tutto cancroato Io voglio uno bello Preciso Ah ok ok Voglio uno giovane Non drogato Non ubriaco Donna incinta Cucinata Col bambino Otto mesi Dentro alla pancia Quella è gourmet Quella è gourmet La cefotto Prima parte del corpo Che mangeresti Allora dipende Come è servita Ah me la mettono Su un piattone Tipo stesa Così con il pancione Che fuma Mela in bocca Esatto pancione Quella più bianca Ai piedi Ti mangio la zinna Sicuro Certo La figa No la figa No la figa Non la mangio Ma perché Secondo me è la parte Più No ma bro È pelle Però è leierata Mi mangi la tetta Perché fa ridere Comunque Sto mangiarmi Credo di dover mettere Delle grossissime mani avanti Con questo discorso Cioè Che stiamo ipotizzando In un mondo Molto immaginario Chiaramente Non stiamo programmando Di mangiare Una tipa incinta Non lo stiamo facendo Non lo farei Cioè anche se potessimo farlo Se taglio il pancione Forse mi farebbe schifo Sai Secondo me dovrebbe essere Prima pulita E poi servita Cioè non è che tipo Se ti mettono un maiele davanti Morto no Certo Cucinato E ti aprono la pancia Bro esce tutto Invece prima lo puliscono E ti lasciano solo le cose Commestibili al loro posto Quindi aprono la pancia Levano l'intestino Le robe Lasciano sto piccolo feto Commestibile Croccante Croccante E te lo pappi Ma è la seconda regola Bro che Se lo posso scopare Lo posso mangiare Cioè tipo Però questo lo devi tagliare Perché? Bro non possiamo parlare Di bambini Donne incinte Ma infatti non ho mai detto Che mangerei un bambino Allora distacca Distacca l'argomento Dall'altro argomento Non c'entra nulla Col suo argomento Oh Ma se una donna incinta Consensiente Vuole E mi piace Non lo farei Ma è potuto Vabbè Non scoprire una donna incinta Non è illegale Ma non lo farei Se lui Lei 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 Ti dà il permesso Perché anche Anche I maschi Sesso biologico Può rimanere incinta maschile Intendi? Chiuditi Ok Se tipo Non ho capito il tuo discorso Se uno ti dice Se tu vuoi scoparla Puoi anche mangiarla? Sì Era un pensiero intrusivo Ma nel senso Nel senso che Se ti dà il permesso di scoparla Ti dà anche il permesso di mangiarla Nella vita vera Oppure intendi Se posso scoparla Allora è buono da mangiare No In etica morale Nella vita vera Se io Posso fisicamente Non avrò cucinare bene questa cazzo di frase No infatti adesso te la sto cucinando Se io posso scopare qualcosa La posso anche mangiare Capito? No Non ho capito Una ragosta Eh La posso scopare? Sì No Come? Puoi scopare qualsiasi cosa Ma non puoi scopare una ragosta Perché non c'ho Ok no Infatti non mangio molluschi di base io Capito? Vai avanti Finito Non mangio molluschi Serpenti non ne mangio Eh scusa mangi le mele Che cazzo fai con le mele Anas? Eh mi sa che dobbiamo tagliare questa parte Mi sa che Non so se sono pronto a rivelare pubblicamente certe cose Sì no forse Forse è stata un'ideologia fallita bro Però non so Non mi è piaciuto che mi hai messo così Cioè io l'ho detto Mi sentivo in un safe space Ma non è che ci ho pensato E' uscito fuori Scusa se tipo c'è il vegano Se c'è il vegano Il vegetariano Questa tua etica Come si chiama? Il fottiriano? Il sexariano? Suona male No lo so Suona molto male Il Figariano? Il figariano Il figariano sta troppo sulla figa Non lo so Il bucariano? Il bucariano Suona anche lì un po' weird Bucariano Sembra quasi un'indicazione Il sexano Bucano Fermati qui bro Non sta Lasciamo sempre il ragazzo Siamo ragazzi perché non abbiamo abbastanza creatività Per tirar fuori un bel nome Cadro io Sì No fuori testa cannibali Comunque Io un po' di video mi li vedo Li vedi quando mangiano le scimmie bro Fa troppo ridere Che c'hanno tipo magari sto pentolone Con ste teste No che non vedo quando mangiano le scimmie Ah minchia c'è un telefono Vabbè poi lo metto Bro ogni tanto su tiktok mi capitano sti qua Minchia c'hanno ste teste bollite Con ste mandibole cattivissime Sai che le scimmie comunque C'hanno i canini belli cattivi Sì sì Da mangiare O perché proprio dicono Ah il lunedì Monkeys Allora io penso che ci sono animali più semplici da uccidere e mangiare E se tu ti fai la sbatta di catturare una scimmie Perché ci sono svegli le scimmie capito E poi non hai Quindi devi ingegnare Ovviamente non hai un allevamento di scimmie Non hai un allevamento di scimmie Esatto Anche perché le scimmie poi Pensano Ragionano C'hanno le gang È un casino Quindi se fai tutta sta roba Perché vuoi la scimmie bro Ho capito Non mangerai una scimmie No come mai Boh secondo me viene il covid 3 Quelle cose là Il covid Il covid 20 Eh Beh ma l'AIDS bro Si dice che sei nato perché un tipo si è scoperto una scimmie Sì ma io non credo a ste cose qua Del sesso e le malattie Cioè tipo l'uomo che si è inculato un pipistrello È avvenuto il covid Cioè boh Beh là alla fine si è scoperto perché c'è del covid Fuoco da laboratorio No complotto Ormai è fatto Non voglio dire nient'altro Io È fuori di sporti bro Non voglio dire nient'altro Non voglio dire nient'altro